buongiorno e benvenuti in un nuovo video un po diverso dal solito perché oggi ci troviamo a fare una cosa che io soprattutto mai nella mia vita avrei pensato di fare da parte scherzi vabbè oggi è primo dicembre e in pratica abbiamo comprato questo esatto un test di gravidanza quello delle clear blue che in teoria ti dice anche le settimane da quante settimane sei incinta vabbè e niente siccome ho un ritardo in poche parole di esattamente sei giorni lo vado a fare sei emozionato vabbè vuoi dire qualcosa perché non che ne so cosa pensi niente io spero tanto che esca positivo addirittura beh e niente incrociamo le dita dai prendi e kira sei pronta a diventare una baglia allora zotti non ti vuole far vedere perché ha pianto perché lui a me non piangono sono felicissimo diventare papà allora ci stiamo piano piano riprendendo questa notizia e qui c'è un piccolino o piccolina non lo sappiamo ovviamente e io non vedo l'ora di andare a fare tutte le analisi comunque vabbè era una cosa cercata quindi noi eravamo consapevoli e avevamo questa speranza si però non potete capire in realtà è il secondo test si può dire si 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 può dire il terzo in realtà che facciamo vabbè il primo è che siccome abbiamo come si dice abbiamo tanta voglia di diventare genitori abbiamo fatto il primo test troppo presto esatto praticamente neanche il ciclo mi doveva arrivare e l'abbiamo fatto diciamo dopo il periodo fertile che ci abbiamo provato e ovviamente non ha rilevato nulla poi la seconda volta l'abbiamo fatto invece dopo il primo giorno di ciclo che tardava e anche lì è risultato negativo infatti lui era veramente triste e abbattuto non parlava e ha cominciato a farsi tipo i sensi di colpa io anche ovviamente e anche se in realtà cioè la ginecologa già mi aveva avvertito che poteva succedere questa cosa è che comunque diciamo per avere un bambino da uno a sei mesi è il periodo quello normale che una persona deve attendere per rimanere in cibo esatto poi comunque vi diremmo bene tutto nell'avanzamento delle settimane e vabbè in realtà io non so neanche come svilupparlo questo video quando caricarlo perché ho letto che c'è chi lo dice dopo il primo trimestre perché è il periodo insomma dove possono capitare tra virgolette più aborti spontanei e quindi niente vabbè quindi non so cioè se fosse per me ve lo direi tipo subito però mo vediamo un attimo intanto dovremmo dirlo alle famiglie e agli amici insomma così e poi ovviamente lo diremo anche a voi mo vediamo un attimo perché io cioè è la prima volta quindi sono già tipo troppo emozionata oggi infatti non vorrei neanche andare al lavoro io da pazzo sto vedendo tutti i video si lui sta vedendo il video di come si trasforma di settimana in settimana di come una donna si sente di settimana in settimana praticamente è stato tipo un quarto d'ora così dopo che l'ha scoperto dopo aver pianto e vabbè anche io sono molto emozionata e soprattutto perché accanto a me c'è una persona splendida che sicuramente sarà anche un ottimo padre quindi e niente poi sentivamo l'esigenza già da febbraio però io non ci ho mai voluto provare perché ero molto spaventata dalla cosa perché sono sempre stata tipo no bambini con il fatto che non ho mai incontrato la persona giusta invece con lui insomma mi è rinata la maternità nascosta ma basta io sono cesso e quindi mi preparo tu vuoi dire qualcosa adesso che non parli? niente io sono troppo 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 emozionato ma la devo colare e iniziare ancora di più eh sì tanto già lo fa poco e ora vedremo quando lo dici alla tua famiglia allora sto per mandare il test a mia sorella vediamo cosa decide di fare se chiamarmi oppure ehm mandarmi una nota vocale diciamo che lei è la prima quindi vediamo la sua reazione la sua reazione è farmi una face time ciao Brissino ma è vera la mia notizia sì è vera la notizia c'è un cuginetto una cuginetta una cuginetta e scommiamo no un cuginetto andremo insieme sul motorino e scommeremo sui cosmi delle macchine di noce sei emozionata di diventare zia certo allora altro piccolo pezzettino di questo video molto emozionante oggi è 15 dicembre io e Zotti stiamo andando dalla ginecologa che abbiamo la prima ecografia quindi oggi vedremo il piccolino la piccolina il nostro piccolo edadame battere il cuore perché io oggi sono entrata ufficialmente alla settima settimana proprio oggi e quindi niente c'è la prima ecografia ovviamente la visita la farò da sola e poi appunto entrerà solo nel momento dell'ecografia Zottino e niente va bene poi riesce al volo e quindi niente sono molto emozionata spero che sia tutto nella norma che stia bene tutto quanto e però l'altro oggi facciamo anche un anno e mezzo praticamente esatto quindi siamo abbastanza emozionati di tutto il contorno e va bene vi aggiorniamo se riesco faccio proprio al volo una ripresa del insomma del bambino e vedremo così almeno mi rimane come ricordo la prima ecografia allora questo è il risultato dell'ecografia guardate quanto è bello ancora era troppo presto per sentire il rumore del cuoricino però l'abbiamo visto però l'abbiamo visto esatto che si muoveva Claudio ha fatto anche un breve spezzone è un'emozione indescrivibile sì Claudio l'ho ritrovato che piangeva beh sì fuori e vabbè ovviamente ci ho detto tutto quello che dobbiamo fare ma diciamo che voglio fare proprio un video magari se sul primo trimestre di gravidanza su come funziona i sintomi che ho avuto quindi di queste cose più dettagliate vabbè brutte dettagliate ne parleremo in un altro video questo è solo diciamo un breve video di delle nostre sensazioni ed emozioni che di cosa si prova io quando ho visto l'ecografia perché ovviamente ci ha preparato dicendo che poteva anche non vedersi vedersi niente perché sono sei settimane sei e sei giorni e sei giorni quindi vabbè io perché ho calcolato un giorno in meno quindi già stavo alla settima in realtà domani allora inizio la settima quindi era ancora piccolino diciamo però si è visto sia quanto era a lungo e che è nella norma e anche che è impiantato bene ci ha detto che appunto quello era il cuore che si vedeva a tremere però ci ha detto che non si poteva non ce l'ha fatto sentire perché per sentirlo bisogna tipo ha detto fare tipo un po' più essere un po' più invasivi e quindi ha detto siccome è tanto piccolo ha detto evitiamo la prossima volta vi farò sentire il tutto e quindi abbiamo tutte le sue foto del piccoletto che tra l'altro forse sono due il pochè parole ci ha detto che se ne vede solamente uno quindi lei ha scritto che ce n'è uno solo però ha detto comunque essendo così presto ha detto no è strano diciamo è insolito che si vede così bene quindi ha detto magari ci sarà un fratellino più piccolo nascosto siccome poi lui è gemello ci stanno tutte queste cose anche con le beta vabbè però ovviamente non si sa ha detto io scrivo uno per ora se ne vede uno quindi uno è poi chissà ha detto è un po' troppo presto per decidere quanti ce ne sono effettivamente l'importante è che ha impiantato bene beh noi siamo felici l'importante è che sta bene poi uno due cento quello che ti eravano poi sei venato e va bene niente adesso lo lascerò piangere in videochiamata con la mamma no no ho pianto anch'io cioè io poi lo cercavo con lo sguardo ma lui non mi non mi filava proprio stava guardando solo che infatti io volevo che poi con la bocca aperta l'ho fatta io ma me lo immagino che stava così perché c'era la mascherina chiaramente però e va bene basta noi condividiamo questa gioia e ci vediamo con i vari aggiornamenti esatto che faremo perché ovviamente adesso vorremmo dirlo anche agli amici quindi magari stiamo pensando di fare qualcosina magari per dirlo anche agli amici perché ovviamente ci teniamo anche a loro e vogliamo che lo sanno prima di tutti ecco dei social ad esempio di persone insomma estranee proprio totalmente alla nostra vita va bene dai ci vediamo al prossimo appuntamento ciao allora oggi ci vediamo con due dei nostri amici li stiamo per mettere dentro questa scatola di cioccolatini visto che anche andremo dal giapponese a mangiare insomma dovrò dare spiegazioni per cui non mangerò la roba cruda abbiamo pensato di fare questa cosa di mettere un'ecografia dovevamo fotocopiarla in realtà però purtroppo non abbiamo fatto un tempo perché stamattina sono stata male quindi gli daremo questo prima di iniziare il pranzo e vi farò vedere la loro reazione allora li abbiamo appena incontrati ci siamo appena seduti e hanno il pacchetto bomba sei pronta? non è il tuo regalo di natale è neanche il tuo non è il regalo di natale ma non è che esplode sul set è il tuo regalo di natale ma non è che esplode sul set è il tuo regalo di natale oddio madonna ha già capito e tu ti hai messa dritta però la devi mettere storta io l'avevo messa storta solo che in moto si sarà rigirata auguri non sai che mi ha detto lei lei c'ha il sentore per queste cose io l'avevo detto a lui la scorsa volta la scorsa volta mi ha detto già dalla scorsa volta secondo me leonora aspetta non lo so vero? quando avevi il vestito rosso che siamo andati a mangiare insieme io l'ho detto sono tornata a casa io l'ho detto a lui che bello ora mi smetto di riprendere allora ragazzi stiamo adesso tocca il turno di Francesca e Cesar non vediamo l'ora di dirglielo esatto volevamo fare una cosa tutti insieme non è stata possibile quindi niente adesso andiamo abbiamo preparato sempre la stessa scatolina eccola qui la scatolina e non vediamo l'ora di dirglielo e di vedere la loro reazione che vedrete anche voi andiamo comunque è arrivato il momento di dare la scatolina magica a Cesar e Francesca dovete aprire dovete aprire la scatolina magica stai attenta qua ci sono anche i dolcetti che ci siamo mangiati occhio che esce tipo i farfallini quelli che volano no dai vediamo la scatolina occhio negli occhi occhio agli occhi sto scherzando occhio agli occhi cosa delle palline occhio agli occhi no non c'è niente dovevamo dirvi una cosa non so se la capite io l'ho capita quella originale arriverà a gennaio eh sì sì oh amuri ragazzi tra i primi a saperlo ve lo dico ok amuri allora siamo arrivati siete arrivati alla fine di questo video ci sono ovviamente anche altre reazioni che non abbiamo ripreso perché abbiamo dovuto comunicarglielo solo per messaggi perché è stato un po' impossibile con questo periodo vederci tipo Betta Martina un suo amico eccetera eccetera e anche ai miei familiari o a sua mamma anzi vuoi dire la reazione di tua mamma a mia madre si è messa a piangere anche la sorella era tutta contenta non se l'aspettavano però sono contentissimi peccato purtroppo la allontananza per il momento purtroppo e niente anche mia mamma e mio padre sono stati molto felici della notizia alla fine un bambino è sempre un dono una gioia come una bambina e niente speriamo che questo nostro regalo che abbiamo pensato di farvi il 25 sia gradito e speriamo insomma di rendervi un minimo felici so che in questa giornata alcuni la passeranno per fortuna con le famiglie purtroppo altri no famiglie insomma due parenti però non in solitaria invece purtroppo c'è chi lo passerà in solitaria quindi speriamo che questo video vi riscaldi un po' il cuore per noi è stata una gioia un desiderio che avevamo quindi non è stata una tozza fredda anzi è stata molto molto lieta come notizia e basta io sono contentissima non vedo l'ora che la mia pancina cresca è strano dirlo io che odio la mia pancia non vorrei mai che crescesse in realtà adesso invece non vedo l'ora non vedo l'ora che nasca già e basta anche io sono felicissimo non ci credo quasi ancora quindi adesso non vedo l'ora che diciamo si vada avanti con gli step è la cosa diciamo si è curioso di sapere il sesso molto tantissimo non dire la tua preferenza quello lo diremo in un altro video e basta che altro puoi aggiungere? un giorno se la tua baby birba vedrà questo video cosa gli vuoi dire? beh che l'abbiamo tanto l'abbiamo se maschio o femmina non lo so tanto desiderato perché sicuramente noi cercheremo di fare di tutto per essere dei bravi genitori che è la cosa che un po' credo che spaventi tutti esatto e di renderlo felice più che possiamo allora se sei maschietto non fargli mancare niente ti dico se sei maschietto papà sta già comprando moto o scooter se sei femminuccia papà ti ha già comprato una capanna tutta rosa insomma sto impazzendo a cercare giocattoli tutine quindi papà ti scappa se sei femmina perché papà è molto geloso di te quindi aiuto povera te comunque vi rinnoviamo gli auguri di Natalia a tutti quanti un abbraccione da noi e da baby birba